www.marizopoli.it, il tema del passaggio generazionale di padre in figlio, di padre in figlia, è un tema sempre più caldo nelle piccole e medie imprese. Ricordiamo un dato, che si viene dato da CERB, che oltre il 70% delle imprese italiane è a condizione familiare e di queste il 25% ha come imprenditori persone che hanno oltre 70 anni. Quindi nei prossimi 5 anni oltre il 20% delle imprese italiane, quindi quasi 5 milioni di persone, tra millenni e 6 generazioni di azienda, dovranno affrontare questa tematica del passaggio generazionale. Ricordo anche un dato molto importante, che solo il 13% di queste aziende raggiunge la terza generazione nella conduzione dell'azienda. Noi come consulenti ed educatori finanziari ci siamo su questa tematica nell'affiancare le imprese e traghettarle, aiutarle in questi passaggi delicati dell'impresa. A prossimo! Grazie! 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 Grazie!